allestiamo l'acquario insieme ciao a tutti i ragazzi bentornati a questo nuovo video bentornati nella mia vasca bene quest'oggi ci troviamo davanti a un allestimento che faremo insieme appunto in questo video di un acquario dolce la vasca misura 100 cm x 40 x 40 ed è fatta è stata costruita in vetro estracchiaro stata costruita da noi perché le facciamo noi metto estracchiaro da 10 mm quindi perdonatemi se ho già messo in essere quello che è l'art scape diciamo del del legno che questo qui che vedete perché purtroppo ci va diverso tempo trovare incassi giusti e cose varie questo pezzo rimarrà qui adesso vi faccio vedere come procediamo per l'inserimento di tutto quello che è il fondo quindi io inizio solitamente al contrario ovviamente ormai mi conoscete io sono un po contrario allora io cerco di fare una spalla su tutto quello che è il perimetro in questo modo che mi farà poi da contenitore al substrato fertilizzante che andrò a mettere sì ma non tanto vicino a al bordo adesso per questioni di spazio il tronco qui ce l'ha un po con me quindi devo un pochino adattarmi in questo modo però andremo a fare tutta questa spalla su tutto il perimetro tutto inteso solo la parte che ci serve da non vedere diciamo tutto quello che sarà poi invece questo vetro qui di fianco ad esempio non ha visuale perché andrà contro un muro il vetro dove sono io in questo momento non non ci serve questo lavoro qui e quindi possiamo procedere in questo modo qua io faccio tutto il perimetro in questo modo scusate i movimenti un po poco ortodossi ma calcolate che sto lavorando al contrario e non sono molto molto abituato andiamo cerchiamo di fargli diciamo un buon buon centimetro e mezzo anche due centimetri per tutto ciò che riguarda appunto questa che io chiamo spalla non so se vi può gradire però secondo me è molto molto funzionale perché fare il contrario sì si può anche fare probabilmente lo fanno tutti va abbastanza bene però diciamo che fare prima il substrato e poi metterci questo a volte capita che andiamo a fare quell'effetto sandwich quindi che qui vediamo i due strati di substrato e di ghiaglia o fondallofano che andiamo a mettere quindi non è proprio il massimo in questo modo qui io mi faccio praticamente un contenitore che dopo andrò a livellare secondo le esigenze delle auto che andremo a stabilire adesso sul fondale andremo inserire dei batteri molto molto particolari che vivono in queste condizioni cioè sul fondo che andranno poi a renderci il fondo fertile quello che dopo vi farò vedere vivo quindi grazie a loro la loro funzione di smaltimento di alcune sostanze che si vanno a accumulare in acquario andranno a fertilizzare maggiormente le piante andremo anche a scongiurare alcuni dei batteri un pochino rognosi in acquario ok ci siamo quasi questo è fatto e bom adesso mettiamo i batteri batteri da fondo ovviamente cerchiamo di non salire sulla spalla la spalla perimetrale io consiglio di andare a mettere un po ovunque dove abbiamo posto cerchiamo di spargerli più possibile questi batteri qui sono fondamentali su una riuscita di un acquario di questo genere se vogliamo fare soprattutto un acquario non dico molto molto spinto ma un pochino spinto via li andiamo a fare un bel tappetino un po ovunque in questo modo ed eccoci qua poi fatto questo io personalmente non è scritto da nessuna parte però mi trovo benissimo con lo spruzzino della nonna vado a inumidire il prodotto appena messo quindi i batteri e anche un pochino la ghiaia questo mi serve per in qualche modo cercare di bloccare di fermare adesso per farvelo a breve può bastare uno starnuto per mandare a tutto monte e quando stiamo facendo layout in questo modo girerebbe un po le scatole allora io con questo adesso detto uno starnuto un movimento sbagliamo a mettere qualche facciamo un movimento un pochino più brusco qualcosa di simile e ci ritroviamo in quelle condizioni poi fatto questo possiamo mettere substrato fertilizzato ovviamente e lo andiamo a mettere in sella in questo modo qua io adesso ho fatto la parte diciamo dove vi riesco a fare vedere altrimenti sarei partito sempre dal punto che io chiamo zero non so in acquascape esattamente come come lo vanno a chiamare ma io personalmente lo chiamo zero perché da qui parte un pochino il tutto questo è il centro tra l'altro a proposito di acquascape qualcuno di voi conoscerà simone comodi comodi style il mio grande amico è niente oggi ci siamo di nuovo scambiati qualche consiglio è una brava persona è molto bravo su sull'acqua scape e lo saluto allora messo un primo sacco ne metteremo due in questo caso cerchiamo di appianare un pochino ovviamente sono all'inizio qui dobbiamo fare movimenti molto molto easy molto tranquilli perché ciò che facciamo non deve disfare quello che abbiamo fatto nello strato precedente adesso sopra questo andremo ancora a posizionare dell'altra ghiaia parecchia ghiaia quindi bisogna fare attenzione perché tutto il materiale che versiamo può andare a disfare il lavoro che abbiamo fatto sotto e quando questi tre materiali qui quindi batteri questo substrato fertile la ghiaia il quarzo e tutto il resto si vanno a mischiare poi diventa veramente ma veramente difficile uscirne fuori quindi prestata attenzione a queste cose qui ok adesso mettiamo ancora il secondo sacco qui devo agire in maniera un po diversa ma anche sopra questo materiale qui abbastanza polveroso andremo poi a spruzzare dell'acqua qui il mio punto 0 dove dovrò salire quindi vado a versare la maggior parte per non dire tutto perché poi da lì scendo e mi faccio i miei massetti mi posso fare i miei livelli ovviamente ci sono una marea di strumenti e io adesso uso le mani sono abbastanza fedele alle manine di solito però ci sono anche strumenti come questo non è nient'altro che una palettina che possiamo andare a spianare il tutto spianare dagli ovviamente la forma che vogliamo in questo caso a me necessita di andare a coprire andare a chiudere tutti i buchi che trovo tra un legno e l'altro in questo modo in questo modo adesso la forma che io ho voluto dare a questo acquario è così perché è un acquario che ci ha commissionato un cliente con questo hard escape abbiamo fatto un po di prove per vedere appunto la forma dei tronchi di tutto il resto da lì poi io parto a seconda delle richieste del cliente e facciamo appunto la forma diciamo del fondo che potete farla un po come vi pare sinceramente io sono abbastanza libero da questo lato nel senso non non per forza ci sono sempre delle cose che devono essere al loro posto e tutto il resto esistono delle proporzioni un sacco di motivi per cui varrebbe la pena magari darci un occhio se vi piace ovviamente potete farlo però diciamo che in linea di massima noi siamo più focalizzati sul insegnarvi diciamo a far funzionare bene il tutto quindi batteri fertilizzanti biocondizionatori e tutto il resto non vuole essere un video di di scuola di acquascape in sostanza quello che volevo dirvi allora qui siamo a posto qui tutto bene adesso diamo ancora una spianatina poi andiamo nuovamente nell'umidire il tutto io personalmente da anche un pochino una pressatina in maniera da andare a scongiurare il più possibile quello che poi saranno i fori il diciamo disfacimento tramite nuovo materiale versato sopra adesso che mettiamo nuovo materiale bisogna agire con estrema cautela diciamo che più o meno può essere classificato umido quasi non troverete in questo video tagli velocità accelerata noi di tropical mania siamo così anzi tra l'altro mentre faccio il video devo anche pensare al disegno del layout commissionato appunto dal cliente allora qui siamo più o meno a posto ok possiamo procedere adesso con la copertura tramite ghiaia io in questo caso sto usando della ghiaia ovviamente ovviamente si può usare diversi materiali quali ad esempio il fondo allofano quindi in questo caso la scelta diciamo è stata questa del cliente e quindi abbiamo adoperato in questo modo un fondo allofano in questo caso qui ovviamente può darti quella spintina in più o no a seconda delle scuole un po di pensiero però sì diciamo che normalmente quando vogliamo spingere molto 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 forte con questo materiale qui usiamo un fondo allofano io adesso sto andando a coprirmi quella che è la giunta tra la cornice che ho fatto esterna e il materiale substrato in maniera da piano piano intensificare il robustire il fondo affinché rimanga più più compatto per l'inserimento di tutto il resto della ghiaia il punto zero è questo qui è almeno quello che io chiamo come punto zero è l'angolo alla vostra sinistra dello schermo qui abbiamo diciamo questa zona un pochino più pianeggiante adesso possiamo forse se non facciamo danno andare a chiudere io utilizzo questi sacchi per pesci per la ghiaia perché mi viene molto ma molto più comodo nel nell'inserimento sono più morbidi del sacco originale però ovviamente ci sono diversi sistemi e adesso la preoccupazione che dovete avere in questo caso qui non è tanto quella del del layout in sé ma più che altro quella di non andare a disfare quello che avete fatto sotto quindi io per esempio vedi in questo momento sto mettendo la ghiaia in un posto dove in teoria non serve a niente poi da lì pian piano visto che dirà mi trovo scomodo a girarmi pian piano me la vado a a spalmare dove mi serve sempre molto molto ad agio ecco un piccolo pezzo l'abbiamo fatto adesso provo dal mio chiamato appunto punto 0 però vedere se riesco a fare una montagnola senza bucare anche qui il substrato se riesco se il gioco mi riesce acceleriamo i tempi ci va un po di pazienza quando facciamo questo tipo di lavori perché basta quel poco e come dicevo prima quando mischiamo tutti quanti materiali dopo diventa dura perché non riesci più a dividere tutto quello che sono polvere enzimatiche per batteri tutto il resto quindi sprecato un pochino più di tempo nel rovesciare nell'adottare questo tipo di precauzioni poi ce ne sarebbero anche altre ci sono diversi modi anche in base un pochino io ho scelto questo anche per la tipologia di di escape quindi c'è scusate di escape hard escape se no poi mi correggete avete ragione io qui adesso sto salendo veramente molto come vedete perché sono riuscito a farmi un punto solido sotto e quindi mi avvantaggia molto nell'inserimento perché in questo modo posso dargli un po di più qui ci andiamo un po più piano perché vedo ancora del substrato fertile quando il sacchetto vuoto un pochino più facile diciamo andare a girarsi intorno sicuramente ragazzi ne faremo un altro di questi video perché di oggi riuscirò a coprire sicuramente ma non riusciremo a piantumare o a fare altro che era appunto in programma su questa lezione probabilmente faremo più di un video sicuramente i legni per quanto mi riguarda vado normalmente a legarli con delle fascette a volte mi aiuto anche con della colla poi successivamente per non stare mesi e mesi a mollo in ebollizione cose varie andiamo a mettere dei pesi sui legni quindi delle rocce magari anche di escape cioè praticamente di di struttura cioè rocce che poi vogliamo magari anche tenere in basca oppure no potete fare come vi aggrada maggiormente così che nel riempimento rimarranno giù e non creeranno grossi grossi problemi ora adesso qui esistono pennelli pennellini ci diamo una spolverata sono i legni tanto voi mica avete da fare stasera ecco qua poi il resto se trovate poi delle particelle di substrato nei legni incassate da qualche parte avete già messo tutta quanta la ghiaia vi consiglio vivamente l'usilio di un aspirapolvere così togliete quel substrato fertile allora qua siamo a posto possiamo inserire il resto della ghiaia adesso ovviamente il lavoro vi verrà molto molto più facile perché abbiamo già chiuso il fertilizzante di fondo partite sempre più vicino a quello che è la collina il vostro punto zero il la parte più alta perché poi vi viene più facile spostarvi ciò che avete messo in più ed ecco qua qui vorremmo probabilmente fare per una questione di disegno una specie di collina che vado a prendere in questo modo potete fare ovviamente tutto ma proprio tutto ciò che vi pare la creatività in queste cose qui e viene proprio il vostro il vostro carattere espresso nel senso che ognuno di noi ha davvero una mano completamente diversa da da un altro per quello dico sempre sì esistono scuole esiste di tutto però poi alla fine sarebbe anche bello che ognuno di voi in base a quelli che sono i vostri gusti bene artistiche sono stato a casa di una signora pochissimo tempo fa una nostra grande cliente che ha fatto questo lavoro qui praticamente per la prima volta non aveva mai avuto un acquario ha fatto secondo me un layout che i ragazzi di itau avrebbero avrebbero fatto la messa per per quanto è stata brava per non avere mai avuto un acquario allora sì diciamo che i lavori di rifinitura il resto della ghiaia lo andrò a inserire dopo al buio a luci spente senza di voi perché devo andare a sistemare un paio di livelli e devo avere una vista al contrario di come sarà previsto dall'altra parte in questo caso non riesco a farlo perché andrei davanti alla telecamera niente ragazzi sicuramente usciranno altri video soprattutto perché voglio finire questo acquario insieme a voi per farvelo vedere spero che sia stato utile se vi è piaciuto il video potete cliccare mi piace condividerlo se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella e buon acquario a tutti ciao